Siamo ragazze di Fiat for Future, oggi 29 novembre c'è una manifestazione mondiale, noi qui a Campobasso abbiamo deciso di adegnare e siamo scesi in piazza per vedere cosa c'è da dire tra i studenti e adesso ci stiamo dividendo in due gruppi di lavoro che riguardano il tema della scuola e quindi come agire all'interno delle scuole e all'interno della città, quindi come possiamo attivarci all'interno delle città. Ok, voi salirete anche adesso su In Comune per chiedere cosa? Di approvare l'emergenza climatica. Perfetto, però come mai siete molto di meno rispetto all'ultima manifestazione qui a Campobasso? Per la verità durante questo mese abbiamo fatto un'altra manifestazione per i trasporti e quindi molto probabilmente per questo.